Rientro in Italia, rientrare in Italia è stata una storia anche quella che noi ci siamo smobilitati a Portoguaro, Portoguaro il comandante dei carabinieri ci ha fermato e ha detto dove andate voi, avevamo già raccolto un migliaio di... dovevamo andare, volevamo andare a Modena dove c'era l'Accademia che ci sembrava che ci fosse un centro di ribellione in sostanza. Questo capitano ci dice dove volete andare, da Trieste, già a Trieste c'era successo, io ho evitato una canonata di 188, allora a Trieste c'è una colonna tedesca che viene verso di voi, da Padova c'è un'altra colonna tedesca che viene verso di voi, dove volete andare? E quindi in quel momento lì abbiamo smobilitato tutti e allora ci siamo dispersi, come succedevano le cose, io poi alla sera mi hanno vestito, ho lasciato la... io non volevo, io e gli altri ufficiali hanno detto noi eravamo dei sudditi in quel momento lì, avevamo giurato sulla pistola, giurato fedeltà al re, sai come ufficiali mantenevamo... e quello là ci ha detto che si eravamo partiti di mente, ha detto, ma voi scherzate sul serio, datemi le pistole e camminate, non fatevi vedere. E vabbè, poche valore delle signore lì ci hanno vestito, vabbè, le armi tutte le hanno posate lì, che poi le hanno prese tutte le formazioni che si è cominciata... c'era già il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN. E vabbè, a Venezia rientro a casa, rientro a casa e io avevo una barba, però la fotografia, poi magari la faccio vedere. E l'11 di via Verdi abitava quel portone che sta fra via Milano e via Alessandria, lì c'è l'11, no? Abitavo lì. E il, come si chiama, il barbiere che diceva, ma dove vai Settimio? Eh, avevo la barba. Ma se hai la barba ti riconoscono, vieni qui dentro e mi ha tagliato la barba. Se no era rimasto un po', sai, così. E di lì è incominciata la storia. Cioè la storia è questa, che io sono andato subito a Cuneo, mi sono messo in contatto con Cuneo, ho trovato il mio comandante, il mio vecchio comandante, non questo Nani, che poi so che l'hanno fucilato, l'hanno preso e poi l'hanno fucilato. E lì c'era un comando, si è esattato da lui, e lui aveva parlato di metterci, e ha detto io mi fermo qui, c'era la bisalta, erano sotto già gli alpini, si erano già piazzati su di là. Però c'era ancora la mentalità militare, no? Cioè abbiamo qui il nostro territorio, lo difendiamo, difendiamo, puoi capire, lo difendevi con quei carri armati con l'88 che sparavano, non restava più niente, infatti, come si chiama, bove, se l'hanno distrutto così, ferro e fuoco, ma con quei canoni lì l'hanno portato tutta l'aria. Va bene, comunque, lì si è cercato di fare qualche cosa. Un bel momento hanno preso il comando, questo comando che era in questa scuola magistrale, in viale degli angeli, sopra, sapete che da segno, cuneo è in un sovrappiano sopra, il gesso è sotto, sali e c'è il viale, eccetera. In fondo al viale c'è questo, l'hanno preso, però, allora, non c'erano le brigate nere, l'hanno preso, però l'hanno preso, l'hanno marcato sul treno, adesso gli hanno detto andate a, infatti lui è andato a poi ospedaletti perché è andato a trovarlo, che stavano incominciando a fare i lavori di fortificazione, non so se ve lo ricordate, dovevano fare il Vallo Tirenico e c'era un'impresa che si chiamava TOD, era tedesca, che aveva tante piccole imprese italiane e aveva lavoratori italiani e questi qua l'hanno andati anche là, l'hanno andato là a lavorare, eccetera. Questo è passato da casa e mi ha detto guarda che, mi ha fatto chiamare, c'era anche un altro, ho salto di qua e ho detto guarda che hanno preso il tacuino dove c'è il nome tuo e quello di Caruzzo Guido, che era un altro ufficiale degli Alpini, più anziano di me, lui aveva fatto anche lui le guerre. e non si sa mai, Settimio va bene, e lui era Guido, ma però se ci fossero state le brigate nere quando sono venute dopo, non era mica tanto, ci avrebbero subito preso, e allora lui ci era andato a lavorare laggiù e noi abbiamo saputo questo e allora io ho cominciato a mettermi in contatto di nuovo con Cunio e con Cunio cerchevamo di fare delle bande militare, cioè delle formazioni militare in Liguria. Quando era questo? Quando? Subito dopo il 1943, subito dopo, nei giorni, cos'era, settembre, parliamo di novembre, ottobre, novembre, quasi più o meno subito. Infatti io avevo avuto contatti a O'Pin, O'Pin lo sapete, è sopra Marmorassi, c'è un Pin del solitario, aveva avuto un contatto con Gimbe e Villacqua, briganti, c'era Polimone, e la signora Fossarello che aveva un negozio in via Vanzone, che erano già quelli del comitato, del partito comunista, già che organizzavano, noi avevano avuto questo contatto per avere questa comunicazione di poter formare già delle formazioni militari qua. comunque, la situazione invece ha migliorato in altra maniera. Quando ho appunto dato su, allora, finito questo passaggio di andare su e venire giù, allora sono ritornato giù. Ritornando giù, sono stato contattato da Fruvento, Gim, mi era contattato che era anche lui uno già della cospirazione, perché lui c'era già prima qui a Savona, era ufficiale di Marina qui alla Capitaneria. Allora mi ha detto guarda, bisogna fare così e così, e allora ho cominciato a fare che cosa? E ho cominciato a organizzare da un punto di vista diciamo propagandistico, da un punto di vista diciamo culturale, certo qual modo, cioè a fare i giornalini.